lunedì 20 settembre buongiorno a tutti ben trovati in diretta puntuali anche questa mattina per dare un'occhiata assieme ai quotidiani che troviamo oggi in edicola inizieremo come sempre con le prime della stampa nazionale poi focus sui quotidiani locali e poi sullo sport ma in apertura come sempre uno sguardo al meteo allora subito una bella immagine che ci arriva dal borgo del monte Lussari ecco qua in questo momento sulle Lussari il termometro segna 4 gradi e 6 decimi temperature più alte a fondo valle 8 gradi e 9 decimi a Tarvisio e poi rimaniamo in montagna Sappada 7 gradi e 4 forni di sopra 9 gradi e 4 sul monte Zoncolan 5 gradi e 7 andiamo nel Pordenonese anche con questa immagine che ci arriva da Erto e allora il piancavallo 7 gradi e 7 decimi e poi scendiamo verso la pianura Tolmezzo 13 gradi e 6 decimi nelle valli del Natisone a Cividale 14 gradi e mezzo 13 gradi e 8 a Cervignano andiamo anche nel Lisontino a Gorizia il termometro segna 14 gradi e mezzo 15 gradi e due decimi invece a Udine 14 gradi a Pordenone e quindi la costa con il capoluogo regionale 18 gradi e 9 decimi in questo momento a Trieste a grado il termometro segna 17 gradi e mezzo con una temperatura del mare di 22 gradi e due decimi e chiudiamo con Lignano dove in questo momento ci sono 18 gradi e una temperatura del mare di 21 gradi e 3 cielo nuvoloso su buona parte del Friuli Venezia Giulia dopo le piogge della notte scorsa andiamo a vedere cosa ci aspetta per questo inizio di settimana le previsioni Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo contesto variabile per la giornata di lunedì sul Friuli Venezia Giulia per l'afflusso ancora di correnti umide in dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Udine e Pordenoni avvio di giornata nel complesso buono con nubi alternate a schiarite poi dal pomeriggio segnalo la formazione di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi più asciutto in pianura ma con il passaggio di nuvolosità carattere irregolare clima più fresco con massime diminuzioni che non supereranno i 21-23 gradi spostiamo ora la nostra attenzione sulla situazione attesa tra Gorizia e Trieste qui a tesi dei fenomeni a carattere sparso per buona parte del giorno più asciutto in serata temperature massime non oltre i 20-21 gradi ventilazione in rinforzo con mari poco mossi con questo per il momento è tutto dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo Adesso siamo pronti per iniziare la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi non troviamo un'unica notizia in apertura della stampa nazionale ci sono temi argomenti diversi e quasi tutte le prime pagine però dedicano almeno una foto notizia anche alle news sportive della giornata di ieri con la vittoria dell'europeo da parte della nazionale di pallavolo e non solo è arrivata un'altra medaglia d'oro anche per Ganna nel ciclismo tra poco vedremo tutto iniziamo con ordine allora vediamo il corriere della sera che apre con il piano nazionale di ripresa e resilienza con i fondi europei da utilizzare per i diversi eh progetti Europa quarantadue riforme per i eh fondi Draghi riunisce la cabina di regia per le misure del recovery possibile rinvio sulla revisione del catasto dagli atenei agli statali questi temi delle riforme corsa per eh vararle in cento giorni letta attacca Salvini e dice irrilevante la ripartenza in cento giorni l'Italia deve varare le riforme richieste dal recovery ora eh Draghi e convoca la cabina di regia a scintille letta eh Salvini Salvini che eh ieri sera anche oggi è in visita in Friuli Venezia Giulia poi vedremo anche questo dicevamo delle notizie sportive in primo piano oggi ecco qua le foto a centro pagina ciclismo e pallavolo riecco l'Italia dei campioni Ganna conquista il titolo mondiale gli azzurri del volley l'europeo la grande estate dello sport italiano sembra non finire più ieri un'altra domenica di vittorie prima l'oro di Filippo Ganna che triunfa nel campionato del mondo a cronometro in Belgio poi è l'impresa dei ragazzi della pallavolo che battendo la Slovenia al quinto set hanno vinto l'europeo andiamo anche di spalla dove eh invece troviamo la cronaca con il maltempo che si è battuto eh sulla eh Lombardia trombe d'aria e strade allagate in Lombardia evacuato un eh albergo a eh Varese e poi eh per quanto riguarda i temi internazionali ci sono le elezioni in Russia Putin vince ancora ma perde eh consensi questo nelle elezioni eh parlamentari in eh Russia andiamo anche su Repubblica ripresa i piani di eh Draghi Green Pass riaperture meno smart working e tagli fiscali il governo punta a una crescita superiore al dieci per cento in due anni a trainare è l'industria con ordini record più duecento trentotto per cento per robot e macchinari bene il made in Italy rischi dall'inflazione e poi eh le il tema pensioni stop a quota cento in pensione prima chi ha un lavoro eh gravoso e anche qui vediamo a centropagina europei battuta la Slovenia al tie break la bella estate azzurra il volley sul tetto d'Europa andiamo nel taglio basso e vediamo qua altre notizie che troviamo poi approfondite nelle pagine dedicate alla cultura in particolare c'è la nuova casa del cinema progettata da Renzo Piano a Los Angeles eh ora il cinema ha una sua casa un museo sulla storia del eh cinema ancora la stampa nazionale siamo proprio sulla stampa che eh apre con la scuola SOS dei presidi torna l'incubo dad scrive la stampa da oggi la terza dose di vaccino per i fragili Giorgetti stoppa Salvini il certificato verde rende liberi tensione nella lega voto di fiducia sul decreto green pass all'esame dell'aula si sgonfia la riforma del eh catasto ancora sempre sui eh quotidiani nazionali andiamo a vedere anche la prima pagina del fatto eh quotidiano e vediamo eh il Salvini in apertura Salvini allo sbando scrive il fatto quotidiano va al parti con Renzi per spartirsi il colle il leghista eh deserta pontida e vede eh Italo Vivo da eh Angelucci ecco qua il titolo di apertura del fatto eh quotidiano poi per quanto riguarda il fatto economico che troviamo ogni eh lunedì 5G la paralisi di Draghi nella battaglia di internet dopo il blitz di Colau ad aprile il governo è muto e eh lascia a bagnomaria eh casa depositi e prestiti che ha il dieci per cento di pin di team eh e adesso il sessanta per cento di open fiber liti sui e limiti di eh emissioni e questa è la prima del fatto eh quotidiano andiamo a vedere anche la prima pagina del gazzettino abbiamo uno sguardo a nord est c'è il tema green pass in apertura con le dichiarazioni di Salvini a proposito si passa ma tamponi gratis Salvini in tour tra Veneto e Friuli ha detto tutelare salute e lavoro anche di chi non è vaccinato per i parlamentari stesse regole dei cittadini ha detto ancora eh Salvini su Brugnaro si occupi dei problemi di eh Venezia e poi è sempre in tema di eh coronavirus e ehm eh certificati verdi tamponi a treviso è coronatura sì il test lo paga l'azienda e scoppia la eh polemica e poi il ministro eh Bonetti il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti dice va sospesa la colp senza certificato andiamo a centro pagina caro bollette la guerra del gas prezzi manipolati da eh Mosca l'istanza di 40 euro deputati l'unione europea indaghi su eh Gazprom dicono per la cronata cronaca scontro tra moto la strage dei centauri tre morti due eh gravi è successo in provincia di eh Latina un centauro in viaggio con la compagna ha impattato su un folto gruppo di motociclisti che andava in direzione opposta tre morti e due feriti eh gravissimi e poi anche qui ganna siluro azzurro una cronometro eh d'oro per il velocista eh italiano titolo bis ai mondiali in eh Belgio e poi nel taglio basso è tramontato il sogno di Veneto City non è più eh un progetto eh attuale dice la eh regione. Torneremo più tardi sulle pagine del gazzettino il gazzettino del Friula adesso continuiamo con la stampa nazionale e andiamo sul foglio che come ogni lunedì propone un approfondimento oggi è dedicato a eh anche la eh Merkel Merkel e le ragazze. In sedici anni la cancelliera tedesca ha dato molte elezioni di leadership femminile senza intestarsi cause femministe. Abbiamo ricostruito questo manuale di girl power così unico ci si lamenta poco non ci si offende mai e si impara a sfruttare la vanità dei maschi ricordiamo che in Germania si vota eh domenica al prossimo fine settimana non ce la può fare disse Helmut Kohl quando gli riferirono che anche la Merkel si sarebbe voluta candidare alla guida del partito cristiano democratico tedesco e poi alla cancelleria finivano gli anni novanta qualche settimana prima la Merkel allora conosciuta come Medchen la ragazza anzi la mia ragazza nella versione dell'ex cancelliere aveva preso le distanze dal suo mentore coinvolto nello scandalo delle donazioni illegali al partito non ce la farai è una frase che segna gli educatori di oggi la vietano tutti ce la possiamo fare e anche se non è vero l'importante è crederci la forza di volontà è tutto per Merkel fu un detonatore e poi vediamo anche qualche altro passaggio di questo articolo molti si interrogano sul femminismo della cancelliera mentre lei non lo fa spesso e non lo fa volentieri è una perversione questa della definizione della definizione delle sfumature femministe che non le appartiene e poi ancora una delle risorse della leadership della Merkel è che è stata molto sottovalutata dagli uomini e dalle donne sottovalutate mi sarà divertente il metodo della scrittrice Margaret Atwood è anche il suo e questa è la prima pagina del foglio di oggi ma adesso torniamo in Italia con il giornale che in apertura titola cliccocrazia la nuova deriva esplode la febbre dei referendum grazie alla firma digitale l'allarme è così il Parlamento viene ucciso dai social dietro la grande voglia di referendum con i quesiti su giustizia e eutanasia e cannabis ci sono due aspetti la politica per troppo tempo inerte e il ricorso alla firma digitale che trasforma le consultazioni popolari in sondaggi su facebook vediamo anche qui lo sport con top ganna la bici più veloce del mondo bis mondiale a cronometro e poi campioni tal volley vince gli europei piegata la slovenia abbissato il titolo delle donne e infine anche il calcio con il pareggio nel posticipo di ieri sera tra juve milan la juve ripresa dal milan è penultima finisce uno a uno rossoneri in vetta con l'inter un passaggio poi anche sulle vaccinazioni oggi al via le iniezioni ai soggetti fragili terza dose si riparte luoghi chiusi si riapre vediamo anche la prima di libero ecco a chi vanno i soldi delle bollette le costangata titola libero dietro i rincari ci sono i colossi della finanza internazionale che grazie alla rivoluzione verde stanno moltiplicando i profitti e poi il ministro eh Giorgetti che dice il caro energia lo paghi eh l'Europa vediamo anche la prima pagina della verità si torna a parlare di green pass green pass da pazzi scrive la verità scaricano pure i controlli sulle famiglie cornuti e mazziati toccherà agli italiani verificare i documenti di babysitter colf badanti e forse di draulici e tassisti roba da stato di polizia ci manca solo il capo caseggiato come nel ventennio in settimana le linee guida ancora andiamo anche sulla prima pagina del sole ventiquattro ore si parla del della riforma del fisco il nuovo fisco pagheremo meno l'Irap primo test per la riforma superare l'imposta costa 15 miliardi tra le ipotesi addizionali IRS e eh IRPEF e qui troviamo poi tutto l'approfondimento nelle pagine interne in primo piano anche qui il green pass con seicentomila colf non vaccinate obbligo di controllo esteso anche al lavoro domestico ma c'è appunto il nodo eh degli eh irregolari chiudiamo anche la prima pagina del sole ventiquattro ore e prima di passare ai quotidiani locali andiamo a vedere anche la prima pagina della gazzetta dello sport un quotidiano sportivo in eh questa prima parte di rassegna in apertura troviamo il risultato del posticipo eh di eh serie A il Milan resta su Juve come sei giù Pioli aggancia l'Inter in testa in attesa del Napoli Allegri penultimo Morata segna subito Rebic zittisce l'Allianz e nel finale il diavolo sfiora pure la vittoria Max Allegri dice se pareggi gare così non vinci i campionati e io ho sbagliato i eh cambi ha detto Allegri e poi nel eh taglio alto vediamo anche qui il volley i nostri ragazzi della palla d'oro un altro europeo che ci emoziona e poi il bismondiale di eh Ganna nella crono Super Pippo Gela il Belgio la MotoGP a Misano Show Ducati Pecco Pecco Bagnaia sei eh grande anche qui torneremo più tardi sulla gazzetta dello sport quando andremo sfogliare le pagine per parlare anche di eh Udinese Napoli in programma questa sera alla Dacia Arena gara che chiude questa giornata di campionato ma adesso andiamo sulla stampa locale andiamo su messaggero Veneto piccolo eh gazzettino vediamo proprio il gazzettino il gazzettino del Friuli che apre oggi eh parlando eh di ehm covid i vaccini hanno salvato l'estate titola il gazzettino la quarta ondata si sta spegnendo senza l'impatto sugli ospedali che si era registrato nelle fasi più difficili vissute negli ultimi diciotto mesi ora la sfida più importante va in scena nelle aule scolastiche da oggi le richieste per la terza eh dose e prosegue l'effetto Green Pass proprio eh sulla prenotazione dei eh vaccini a centro pagina ecco qua un'anticipazione proprio delle pagine sportive la grande sfida eh scrive il gazzettino una notte magica contro eh spalletti poi andremo anche qui sulle pagine interne si parla anche di sicurezza ecco il piano regionale nuove misure per potenziare gli impianti le telecamere e le eh sedi di spalla cresce in Friuli Venezia Giulia il mercato dell'auto usata su fronte cronaca calano i reati ma aumentano le eh violenze nel taglio basso si parla delle autostrade digitali per uno sviluppo eh smart anche della eh regione anche in regione eh Friuli Venezia Giulia e poi invece nel taglio alto a proposito di infrastrutture in questo caso non eh digitali ma materiali eh Gemona Sequals la regione fa ripartire lo studio sui eh flussi di traffico lungo la eh direttrice Gemona Sequals. Spazio anche a Pordenone legge che si è chiuso ieri eh con oltre venticinque mila visitatori e migliaia di contatti online Mascherini e il teatro un'esposizione a Palazzo eh Ricchieri a eh Pordenone dal gazzettino andiamo adesso sulle pagine del piccolo vediamo anche qui i titoli di eh apertura in eh primo piano c'è una notizia di cronaca legata eh in qualche modo al mondo dello sport al pugilato triestino sul ring i tatuaggi nazisti diventano un caso reazioni indignate di fronte ai eh simboli esibiti dal pugile di ventotto anni Broli la condanna della federazione pugilato avviata un'azione eh disciplinale e e poi vediamo di eh spalla l'effetto Green Pass traina i vaccini prenotazioni salite delle duecento eh per cento nel taglio centrale la barcolana ha i clicche di Borlenghi un tocco di classe sulla eh regata sulla barcolana di spalla vediamo i richiami agli altri altri agli altri articoli che troviamo poi nelle pagine interne soprattutto di cronaca il caso di un omicidio suicidio eh avvenuto in Veneto con un uomo un papà di eh un falcone che ha ucciso la eh figlia parla il nipote nonno in preda alla follia e poi Ziberna scrive al ministro Cartabia a Gorizia tribunale da eh potenziare il ritorno di Dino Zoff nella sua Mariano per inaugurare lo stadio a inizio eh ottobre e poi è maestra vieta al parroco di benedire la eh scuola e questa notizia la troviamo in prima pagina anche sul eh messaggero Veneto di Udine e allora andiamo a vedere proprio la pagina del eh messaggero Veneto la prima pagina ecco qua a centro pagina la fotonotizia la maestra afferma il parroco niente padre nostro siamo a Precenicco scuola elementare nemmeno nella benedizione del eh nuovo istituto dopo l'intervento di eh restauro per non urtare la sensibilità di chi è un altro credo religioso a interrompere Don Cristiano Samuele Zentilin che sia che si apprestava a recitare la preghiera è stata un insegnante ma andiamo a vedere anche le altre notizie l'apertura innanzitutto l'obbligo del Green Pass fa impennare le adesioni alla campagna di eh vaccinazione prenotazioni delle prime dosi cresciute delle duecento per cento in particolare nella fascia tra i quaranta e eh i sessant'anni. Andiamo di spalla vediamo lo sport eh con Gotti vi voglio aggressivi come se fossimo a zero punti e poi eh dalla serie D alla seconda categoria dopo un anno sono ripartiti i campionati dei eh dilettanti. Vediamo nel eh taglio alto anche le altre eh notizie si parla della nuova sfida dell'energia nella transizione eh energetica e poi anche della guida ai bonus per le eh auto nel taglio basso. Un richiamo a eh Pordenone Legge e che ora guarda anche all'estero. Andiamo sulle pagine interne vediamo come apre il fascicolo dedicato a Udine e provincia. Eccolo qua eh c'è il tema dell'eco compattatore in primo piano la scommessa net da trecentonovantamila euro che fa discutere. La consigliera Soramelle eh dice benefici nulli per utenti e eh ambiente un buono di un euro ogni trento ogni trenta di spesa in un solo eh supermercato. Fa discutere dunque il nuovo ecocompattatore posizionato nel centro di raccolta di rifiuti di via eh Stiria. Nel taglio alto panchini come cestini dell'immondizia. Questa è la situazione ai giardini del eh Torso denunciata da un gruppo di eh cittadini. Andiamo adesso sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Andiamo a vedere anche qui i titoli eh principali e eh vediamo innanzitutto l'apertura dell'edizione di eh Pordenone del Messaggero Veneto. Eccola qua c'è il eh Green Pass anche qui in apertura quindi lo stesso titolo a centropagina invece vediamo eh la la visita al tour elettorale di Salvini in regione è iniziato ieri. Salvini a Pordenone dice guai se torna la legge Fornero. In nove minuti di intervento scalda una piazza di ombrelli e persone che nonostante la pioggia battente aspettano lui il Matteo nazionale e Matteo Salvini approfitta del calore della piazza multiculturale di eh Pordenone città in cui il quindici per cento degli degli abitanti è formato da migranti per lanciare un messaggio agli alleati a eh Roma. Per quanto riguarda lo sport vediamo anche qui di spalla le parole eh di Gotti e poi e vediamo anche le parole del eh presidente del Pordenone Lovisa l'ira di Lovisa dopo la beffa così il VAR non eh serve dice Lovisa. Andiamo anche qui sulle pagine interne prima pagina del fascicolo dedicato a città e provincia terza dose al via per oltre trecento verso la campagna anti influenzale in stand by l'ipotesi dell'iniezione in contemporanea di booster anti covid e eh vaccino contro eh l'influenza. La dose addizionale di vaccino anti covid riguarderà in questa prima fase più di trecento persone in provincia di eh Pordenone centosessanta dializzati centosettanta persone che hanno subito un trapianto di rene altre quindici seguite dalla cardiologia di Udine che hanno ricevuto un cuore nuovo e gli eh immunocompromessi questa è la situazione appunto in eh provincia di eh Pordenone. chiudiamo adesso queste pagine del messaggero Veneto e iniziamo a sfogliare le pagine eh sportive. Allora andiamo subito ad aprire il fascicolo eh sportivo e troviamo proprio l'Udinese in eh primo piano che notte al Friuli Udinese Napoli vale il eh primo posto scrive il messaggero Veneto dopo i risultati a sorpresa della eh domenica Spalletti può prendersi la vetta solitaria ma anche per i bianconeri una vittoria significherebbe l'aggancio a Inter e eh Milan vale il primo posto non solo per il Napoli che spugnando il Friuli potrebbe schizzare in vetta da solo complici i risultati della domenica vale il primo posto anche per l'Udinese dopo aver ehm salvato eh la griba contro la Juventus dopo aver battuto in successione Venezia e Spezia non senza sofferenze ma sfruttando al massimo la compattezza tattica un tre cinque due che eh ormai è eh una sicurezza e poi vediamo appunto tutto la il l'articolo che prosegue il ruolo di Pereira può determinare la l'assetto tattico della squadra di eh Gotti e vediamo allora di spalla la ricetta di Gotti aggressivi senza paura e cattivi come fossimo a zero punti l'allenatore indica la strada per giocarsela contro una delle big i nostri avversari non saranno stanchi per l'impegno europeo ha detto ieri il mister bianconero torneremo poi a parlare di eh Udinese quando andremo anche sulle pagine del gazzettino e ehm anche della gazzetta adesso rimanendo sul eh messaggero Veneto vediamo anche il eh Pordenone Pordenone beffato la rabbia di Lovisa il Var c'è assista realmente l'arbitro ha detto eh Lovisa contro il cittadella rigore negato e una mancata espulsione ma il presidente non si perde d'animo e dice tifosi fidatevi di noi a freddo la beffa fa ancora più male scrive ancora il eh messaggero Veneto ancora sempre per quanto riguarda il calcio vediamo oggi un'ampia pagina dedicata alla ripresa del eh campionato dilettanti ecco qua questa è la prima pagina si parte dall'eccellenza Arcon non basta la gemonese si fa rimontare due gol eh dalla spalla eh Cordovado e poi vediamo appunto tutti gli altri articoli tutte le altre pagine che ci raccontano questa domenica questa prima domenica del campionato dilettanti dopo lo stop legato all'epidemia di eh coronavirus spazio anche al basket con la pallacanestro Udine che ieri ha battuto Orzi Nuovi novantuno a sessantacinque a più a lungo spaziale nel momento più eh duro l'Old Wild West rimonta rimontata eh da eh Orzi Nuovi a fine ultimo quarto poi un'accelerazione pazzesca che vale le final eight a eh Lignano e vediamo le prime righe dell'articolo che inizia così missione compiuta la più Old Wild West passa anche a Orzi Nuovi e timbra il pass per la final eight di Supercoppa in programma da venerdì a domenica a Lignano eh sabbia d'oro Boniccioli soddisfatto palle perse eh ridotte pedone già chiama i tifosi per eh Lignano chiudiamo adesso il messaggero Veneto e andiamo torniamo sulle pagine sportive del gazzettino e vediamo anche qui i titoli eh principali vediamo la prima pagina del fascicolo eh sportivo che titola così in apertura occhio all'ex stasera l'udinese ospita alla Daccia Arena il Napoli a punteggio pieno guidato da Luciano eh Spalletti e poi vediamo di spalla la spinta dell'euforia dei tifosi quella di eh questa sera con il Napoli sarà una sfida ad alto rischio assai difficile anche per i partenopei ma per l'udinese non rappresenta un esame di maturità i bianconieri hanno già dimostrato i loro pregi e i loro limiti sono gli stessi di un anno fa privi di Rodrigo De Pol ma ora hanno recepito il credo di Gotti e eh sono un eh blocco armato pur disponendo di di individualità di eh spicco e questo è il titolo di apertura del fascicolo sportivo del gazzettino poi nel eh taglio basso vediamo l'ovisa suona la carica in casa Pordenone credete in noi il presidente del Pordenone chiama i fans e poi vediamo anche il mezzo secolo di Rossito fuori dal eh campo sfogliamo le pagine del fascicolo sportivo e allora vediamo per quanto riguarda eh l'udinese alla Daccia Arena una notte magica contro Spalletti il Napoli a punteggio pieno e un cliente pericoloso Gotti esalta Osimen dice avevo capito subito che sarebbe stato un attaccante importante per la serie A possibile il cambio di modulo con una sola eh punta e poi vediamo Strugher appare eh recuperato e questo è il titolo di eh apertura della eh del gazzettino ci siamo stasera Udinese e Napoli sono chiamate a dare seguito ai risultati conseguiti sinora oltretutto supportati da prestazioni importanti sarà una sfida con fischio d'inizio alle venti e quarantacinque tutta da vedere perché promette intensità emozioni buon calcio e divertimento i bianconeri di Gotti potranno contare anche su una spinta importante da parte del proprio pubblico sugli spalti della Daccia Arena probabile il tutto esaurito con undicimila presenti ci sarà uno sventolio di migliaia di bandiere bianconere con i fans che hanno raccolto l'appello del presidente dell'AUC Bepi Marcon e poi abbiamo tutto l'articolo che eh prosegue Galliani indica la strada giusta al Monza stadio il nostro modello è quello eh Udinese qui troviamo invece un altro articolo che eh appunto eh guarda anche al modello Udinese per quanto riguarda appunto eh la gestione dello eh stadio chiudiamo questa pagina del eh gazzettino e eh adesso ritorniamo sulla gazzetta dello sport e andiamo a vedere anche qui la pagina dedicata eh all'Udinese la pagina che presenta la gara di eh questa sera contro il eh Napoli eccola qua Napoli c'è aria di fuga eh scrive la gazzetta dello sport partenza record e eh occasione d'oro Spalletti punta alla vetta da solo una vittoria con l'Udinese per scatta eh staccare tutti serve il miglior in signe l'unico finora in ombra il capitano è partito bene contro il Venezia poi si è un po' ecclissato c'è fiducia in eh Osimene e poi leggiamo anche qui le prime righe dell'articolo è soltanto una questione di primato gli altri temi legati a Udinese e Napoli interessano relativamente almeno sulla sponda eh napoletana Luciano Spalletti vuole i tre punti per balzare da solo in testa alla classifica i risultati della domenica hanno spostato l'attenzione sulla sfida di questa sera alla Dacia Arena dove Napoli proverà a fare l'unplane di punti dopo quattro giornate. L'attesa è cresciuta nelle ultime ore l'ambiente napoletano ha incrociato le dita e adesso aspetta fiducioso la sfida con eh l'Udinese. La suggestione del primato tiene alta la tensione nel gruppo Napoli. Ieri sera allenatore e giocatori hanno tifato perché il Milan non vincesse proprio per tentare di lasciarsi tutte le altre alle spalle. Sa bene Spalletti comunque che nulla è semplice. La formazione di Gotti è in un buon momento ed ha sette punti in classifica appena due in meno del eh Napoli. E poi vediamo anche la possibile formazione ipotizzata dalla eh gazzetta con Silvestri e tre pali per quanto riguarda l'Udinese poi in difesa Becao, Neutin e Samir, a centrocampo Molina, Arslan, Wallace, Mackengo e Struger-Larsen, Pereira e Pussetto in attacco per il Napoli Ospigna tra i pali e poi in difesa Mario Rui, Quilibali, Manolas e di eh Lorenzo. Eh ancora Anguissa e Fabian Ruiz dietro a Insigne, Zilinski e Politano con Osimen ehm al centro dell'attacco. La ricetta di Gotti serve tanta corsa, aggressività e non aver mai paura. Queste le parole del mister bianconero alla vigilia della eh gara. Non mi aspetto un Napoli stanco dopo la gara di Leicester. Normalmente la stanchezza non si sente alla seconda partita ravvicinata ma più eh avanti ha detto il mister. Chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport e andiamo a vedere velocemente anche le altre eh notizie approfondite sulle pagine interne della eh gazzetta vediamo innanzitutto in nelle primissime pagine la il racconto della partita tra Juve e eh Milan il diavolo resta in paradiso titola la gazzetta Morata illude la Juve e Rebic firma il pareggio e il Milan è ancora primo partenza lanciata dei bianconeri che sfiorano il raddoppio la ripresa è rosso nera agganciata l'Inter Allegri penultimo e poi e per quanto riguarda anche le altre eh partite vediamo eh la Roma che ha perso eh contro il eh Verona la caduta di Mu eh titola la gazzetta Roma confusionari arriva al primo K.O. Faraoni mette le ali al nuovo Verona che in casa batte la Roma per tre a due e Murigno dice sconfitta meritata Tudor nuovo allenatore del Verona dice sì siamo eh forti chiudiamo anche questa pagina della gazzetta eh dello sport e eh per quanto riguarda invece le altre eh notizie e gli altri eh sport vediamo la doppia pagina l'altra copertina dedicata alla nuova medaglia d'oro di Ganna estasi Ganna è oro bis fa piangere il Belgio dopo gli insulti ero modalità razzo ho sognato tutto ha eh raccontato eh Ganna la cronometro apre i mondiali di ciclismo in Belgio con duecentomila persone a bordo eh strada e ancora eh sempre sulla gazzetta dello sport dal ciclismo passiamo adesso alla MotoGP e vediamo Bagnaia da sballo respinge il Diablo e fa godere Misano Bastianini sul podio festa tutta Ducati pecco non si ferma più dopo Aragon vince il gran premio di casa tenendo a bada Quartararo Papa Pietro dice gli fa bene stare vicino a un maestro come eh Rossi e proprio Valentino Rossi ha detto guida preciso come me e poi il commento anche di un altro campione della moto Capirossi che dice invece freddo come eh Valentino e infine un passaggio anche eh sulla eh pagina dedicata alla eh pallavuolo siamo l'Italia della palla d'oro scrive ancora la gazzetta un altro europeo la rivoluzione è il capolavoro di Giovanni eh di giovani eh stelle dopo il titolo rosa di quindici giorni fa gli azzurri piegano la Slovenia al tie break il gruppo di De Giorgi ora punta al mondiale del duemila eh ventidue e qui poi vediamo anche il racconto appunto eh della finale di ieri sera con l'Italia che ha battuto la eh Slovenia chiudiamo anche la gazzetta dello sport e in questi ultimi minuti a nostra disposizione andiamo anche sulle altre prime pagine dei quotidiani sportivi eh nazionali gazzetta dello eh tutto sport scusate corriere dello sport e vediamo nel taglio alto di tutto sport che Italia con Top Gunna campione del mondo Bagnaia che trionfa misano e volley campione d'Europa e poi eh nel eh taglio invece boh comunque in in apertura sicuramente che Milan crisi Juve che eh appunto pareggia con il Milan per uno a uno botta e risposta Morata Rebic Allegri senza vittorie e eh terz ultimo andiamo anche sul Corriere dello Sport Stadio la Juve in fondo scrive Corriere dello Sport all'Allianze uno a uno bianconeri penultimi e ancora senza una vittoria Milan pari rimonta e stasera il Napoli può tornare in testa da solo Morata illude i bianconeri poi Rebic firma il pareggio Allegri dice poca cattiveria ma io ho sbagliato i eh cambi e poi nel taglio alto anche qui eh come abbiamo visto anche su tutto sport Ganna it al volley e pecco noi infiniti lo sport italiano trionfa ancora chiudiamo anche questa prima pagina del Corriere dello Sport e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di oggi e adesso come sempre eh ricapitoliamo velocemente gli appuntamenti principali di questo lunedì sul nostro canale un palinsesto quello di oggi segnato dall'impegno dei eh bianconeri nel posticipo di questa giornata di campionato e allora alle dieci come ogni giorno la prima edizione del TG in diretta così come alle dodici alle sedici e alle eh diciannove e poi alle quindici pomeriggio calcio alle diciassette e quindici potrete rivedere la gara di basket di ieri tra Orzinuovi e Udine e poi e dalle diciannove e quarantacinque saremo di nuovo in diretta con studio e stadio per seguire come sempre la partita dell'udinese questa sera contro il Napoli in diretta dalle diciannove e eh quarantacinque un'ora prima del fischio d'inizio della eh gara. Noi ci fermiamo qui per il momento la linea passa alla regia la programmazione e ci rivediamo appunto più tardi alle dieci per la prima edizione live del nostro TG. Grazie per la vostra attenzione e ancora buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.